E a questo punto Johan Wallner sta attaccando a più non posso per cercare di conquistare un'altra medaglia, 94 centesimi di vantaggio per Johan Wallner, eccellente la prestazione nella parte alta della medaglia di bronzo dei mondiali di Salva che sta cercando di difendere e se possibile di migliorare la sua posizione rispetto a quell'occasione. Johan già ieri è lasciato molto molto bene secondo me, prossimità dell'intermedio, un errorino, ha perso qualcosa rispetto a Chiellini nella parte centrale ma ha perso di più probabilmente subito dopo l'intermedio, comunque dovrebbe farcela a passare al comando, 17-27 primo con 36 centesimi di secondo di vantaggio, una medaglia per Johan Wallner è sicura, ora devono scendere ancora Rainer Salzgeber e Shetty Landre e Omode, sono ambe due piuttosto inavvicinabili per gli altri se non sbagliano. Rainer Salzgeber a 45 centesimi di secondo di ritardo da Omode, un vantaggio su Johan Wallner di un secondo e 0,4. Rainer Salzgeber nato il 26 aprile del 67 a Schruz, 1,77 per 78 kg, il mio risultato dell'anno è un ottavo posto, 91 centesimi di vantaggio, quindi ha perso pochissimo nei confronti di Wallner nella prima parte di gara, fu settimo l'anno scorso alle Olimpiadi di Albertville, Rainer Salzgeber, ieri è stato sicuramente fortunato ma ha anche sciato molto bene, non ha sciato benissimo in quella lunga dove ha messo gli sci parecchio di traverso, comunque dovrebbe essere nettamente avanti, un secondo di vantaggio su Johan Wallner per Rainer Salzgeber, chiude con il tempo di 16,23, 1,04 di vantaggio, praticamente, anzi esattamente lo stesso vantaggio che aveva prima dell'inizio di questa gara e adesso è lì, deve solo aspettare Shetty Landre e Omode, una medaglia anche per lui è assicurata, mentre tocca al norvegese volante Shetty Landre e Omode, 45 centesimi di vantaggio su Rainer Salzgeber, è in una condizione di forma straordinaria dopo aver vinto, uh grande, sta sciando in un modo straordinario Omode, 49 centesimi, ha incrementato il suo vantaggio anche se di poco, Shetty Landre, ecco ora nella parte centrale, il norvegese sta andando verso la quinta pedaglia pesante della sua giovanissima carriera, è arrivato un po' basso di linea lì, è un po' come arriva l'intermedio, 2,25, ha perso qualcosa, ha guadagnato ancora qualcosina, 56 centesimi di vantaggio su Salzgeber, non dovrebbero esserci problemi per Shetty Landre e questi norvegese stanno veramente massacrando tutta la concorrenza in questi mondiali, primo straordinario Shetty Landre e Omode, 87 centesimi di vantaggio nei confronti di Rainer Salzgeber, 1,91 su Valner, 2,27.